Ciao ragazzi e benvenuti su Cassio e Drums. Nel video di oggi vi voglio spiegare un problema, il solito problema che hanno i batteristi, che però è un problema un po' particolare e quindi molti batteristi neanche si accorgono di questo problema e più che altro anche se se ne accorgono non sanno come fare per migliorare questa cosa. Quindi in pratica vi sto parlando di tutto quello che riguarda la stabilità sul set, il fatto di riuscire a stare seduti bene alla batteria, perché comunque noi andiamo a suonare con tutti gli altri insieme, soprattutto andiamo magari a suonare insieme con i due piedi, quindi ci muoviamo continuamente ed è un problema tante volte questa cosa, perché rischiamo di cadere anche dalla batteria se non stiamo molto attenti. Poi è vero che non capiterà, però non è detto ragazzi, perché ci sono dei movimenti fatti da dei batteristi che ogni tanto vanno un po' indietro, un po' di qua, un po' di là, quindi si rischia. Vi assicuro che questa cosa si può rischiare di cadere dalla batteria. Quindi con questo vi voglio dare un po' di esercizi, ma in realtà non sono esercizi, sono dei consigli, delle cose da fare per evitare questo problema, anche perché comunque se si riesce ad essere stabili sulla batteria belli solidi, suoniamo di sicuro anche meglio, pensate suonare mentre si fa questa cosa qua, oppure suonare mentre si è belli dritti allo strumento, diventa tutto molto più semplice. Quindi non vi dico altro, possiamo partire direttamente con il video, sigla e poi andiamo. Quindi come vi dicevo, uno dei problemi principali dei batteristi, sia le prime armi ma non solo, anche già batteristi che suonano da tempo, è il problema della stabilità sul set. La stabilità sul set è una cosa indispensabile per noi batteristi perché andiamo a suonare con tutti gli altri, quindi rischiamo tante volte sul seggiolino di andare un po' in qua in là e quindi non essere appunto belli stabili sul set. Soprattutto la cosa difficile è quando dobbiamo andare a suonare con tutte e due i piedi insieme. Questa è la cosa più difficile perché il fatto di alzare un piede l'altro fa sì che il nostro baricentro si sposti di volta in volta. Quindi oggi proprio di questo voglio parlare perché finché usiamo le mani possiamo avere tecnica non tecnica ma alla fine sul set più o meno rimaniamo lì. Quando incominciamo a fare queste robe qua diventa tutto un pochettino più difficile. Partiamo dicendo che come sappiamo tutti più o meno ci sono due possibilità di suonare con i piedi cioè o col tallone giù o con il tallone su. Ovviamente a parte i pro e i contro di tallone su, tallone giù, la potenza eccetera eccetera che comunque ho già fatto anche altri video su queste cose qua andatele a vedere. La stabilità è completamente diversa se suoniamo in un modo o se suoniamo nell'altro. Finché noi andiamo a suonare con i talloni giù, tutti e due i talloni giù siamo abbastanza tranquilli perché comunque siamo appoggiati siamo seduti normalmente quindi non ci sono grossi problemi. Nel momento in cui noi andiamo ad alzare i talloni quindi facciamo questa cosa qua diventa un problema perché comunque noi non siamo più veramente belli appoggiati ma adesso siamo appoggiati solamente più sulle punte e sulle punte può ancora andare bene perché comunque siamo appoggiati ma nel momento in cui dobbiamo suonare e quindi alzare i piedi rischiamo veramente di cadere dalla batteria e non sto scherzando si rischia veramente perché se andiamo in qua e in là poi andiamo un po' indietro poi andiamo un po' così un po' cosà rischiamo veramente di cadere dalla batteria. Per prima cosa cominciate con un piede tallone su e l'altro piede tallone giù ad esempio cassa tallone su e charleston tallone giù facendo ad esempio qualche groove in questo modo comincerete pian pianino ad abituarvi a uno spostamento a un baricentro diverso ma avrete sempre il piede sul pedale del charleston che vi fa rimanere ancora belli stabili poi volendo potete anche provare a fare il contrario quindi charleston con il tallone su e cassa col tallone giù ma è una roba che non si fa praticamente mai potete anche non farla la cosa importante però da fare che vi stabilizza perfettamente è quella di riuscire a suonare con tutti e due i piedi col tallone su facendo quindi questa cosa qua fare questo è difficile perché perché ovviamente la cosa che viene da fare è andare indietro col corpo quando si alzano tutte e due le gambe quindi questa cosa qua è ovviamente sbagliatissima non fate mai questo quando andate a suonare perché a parte che vi allontanate dalla batteria diventa tutto difficile da suonare e poi veramente rischiate di avere problemi di uscire di tempo di cadere veramente eccetera eccetera e poi non vi fa neanche tanto bene alla schiena fare questa cosa dovete abituarvi a tenere il busto dritto ma fare ugualmente questo movimento solo con le gambe quindi praticamente cosa dovete fare dovete riuscire a fare solamente perno diciamo dovete riuscire a rimanere stabili soprattutto sul sedere perché perché è l'unico punto d'appoggio che abbiamo se rimaniamo con le gambe su quindi dovete cercare di riuscire a saltellare diciamo con i piedi ma a rimanere belli saldi sul seggiolino col sedere è una cosa che volendo potete anche fare al di fuori dei pedali voi vi sedete normalmente e poi fate in questo modo saltellate ma cercando di tenere il busto bello dritto non è una roba che viene subito ma non avrete più problemi di stabilità pensate ad esempio a quando dovete tenere il charleston col piede magari in quarti e suonare un groove non è così semplice in effetti ma se riuscite a fare questi esercizietti pian pianino vedrete che la vostra stabilità sul set sarà sempre perfetta anche se state facendo cose difficili che rischiano di destabilizzare un po quindi ragazzi il video può finire qua io spero vi sia piaciuto ovviamente questo video più che altro spero vi sia servito perché è stato un video un po diverso nel senso non ho suonato così tanto ho parlato blatterato tanto quindi spero di non avervi annoiati ma vi assicuro che questa cosa è una roba veramente 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 molto importante quindi prestateci attenzione non sottovalutate la questione della stabilità sullo strumento perché è veramente fondamentale raga io comunque vi ho già detto tutto non vi sto a ripetere delle altre cose quindi con questo vi invito a iscrivervi al canale se vi va a lasciare un commento fate qualcosa più che altro lasciatemi un commento dicendo se siete mai caduti dalla batteria ma comunque se avete mai avuto questi problemi di stabilità e se sì come li avete risolti se avete fatto la mia stessa cosa o se avete fatto cose diverse ditemi un po di cose così ne parliamo e magari scopro cose anch'io che non so che non sarebbe male basta così ragazzi grazie per aver visto il video fin qua e noi ci vediamo al prossimo di video ciao